Ciao a tutti, come state? Bentornati in un nuovo video. Oggi mi tocca pulire le armadi interne in cucina. Quindi inizio togliendo tutto quello che ho nelle mensole. Io tolgo mensola alla volta per non creare troppo casino. E poi dopo vado a pulire con uno sgrassatore, quello che vi ho fatto vedere, che è uno sgrassatore disinfettante, presidio medico chirurgico. Quindi va a togliere tutti i batteri. E come cosa che andrò a fare, semplicemente vado a riordinare la dispensa come era già organizzata. E magari utilizzerò un contenitore, un paio di contenitori che ho in giro per casa. Dove andrò a scrivere anche la data di scadenza nel caso che dovessi buttare il pacchetto originale del prodotto. E andrò a utilizzare questo metodo per tutta la dispensa che ho e per tutti i mobili. Quindi vi lascio al video e ci vediamo dopo. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.